I due stanno insieme da sette anni e vengono dalla provincia di Salerno. Dopo tanti anni insieme a Andrea. I due stanno deciso di mettere alla prova il loro amore, per capire se davvero ne vale la pena. Di seguito tre imperdibili curiosità sulla coppia protagonista del programma condotto da Filippo Bisciglia. Curiosità su Raffaela e Andrea di Temptation Island.1. Chi è Raffaela Giudice? La protagonista di Temptation Island ha 24 anni e viene da San Valentino Torio, in provincia di Salerno. Nella vita lavora per una compagnia assicurativa. Come si nota dal suo profilo Instagram, è una ragazza molto dolce, appassionata di moda e fitness. 2. Chi è Andrea Celentano? Il giovane ha 24 anni come Raffaela e lavora come personal trainer nella palestra di famiglia. Tiene molto alla cura del suo corpo, come si evince dalle numerose foto che posta su Instagram. Anche per Andrea, Raffaela è il suo primo grande amore.3. Raffaela ha chiesto di partecipare a Temptation Island. È stata la giudice a contattare la redazione del programma prodotto da Maria De Chilippi. Qualche tempo fa la ragazza ha trovato dei messaggini poco piacevoli sul telefono del fidanzato, e da allora ha un po' perso la fiducia nei suoi confronti. Si è dunque voluta mettere alla prova, cercando di chiarire i suoi dubbi. Dubbi che ha pure Andrea che, stanco della gelosia di Raffaela, vuole capire se quello che prova nei confronti della fidanzata è solo abitudine o vero amore. .